Siamo veramente sicuri di esserci? Siamo realmente consapevoli del fatto che noi siamo qui e che siamo qui in questo momento. Oppure ogni giorno continuiamo a svolgere le nostre azioni ormai diventate banali senza porci più il nostro spirito critico. Insomma, ci svegliamo, andiamo a fare colazione, ci dirigiamo verso la scuola, verso il lavoro, gli svolgiamo il nostro compito, poi torniamo a casa per goderci il nostro meritato riposo. Non ci accorgiamo però che tutta questa serie, questa catena di azioni, ci lega, ci fa legare ad una catena inconsapevole che toglie alla nostra testa la cosa più importante che abbia e la cosa più potente soprattutto che abbia, il pensiero. Infatti viviamo in un sistema purtroppo alla quale siamo legati sin dalla nascita. Insomma, noi nasciamo, dobbiamo studiare, studiare per trovarci un buon lavoro, trovarci un buon lavoro per garantirci uno stile di vita adeguato, magari mettere su famiglia come vuol fare la maggior parte delle persone in questa società, poi andare in pensione e goderci anche lì un meritato riposo. Il nostro destino è fondamentalmente già scritto. Certo, abbiamo dei paletti in cui muoverci, non neghiamolo, nel senso che uno può scegliere il suo indirizzo di studi, può scegliere quello che più gli piace, ma fondamentalmente ci muoviamo entro certi paletti. Così, qual è il nostro unico obiettivo? Quando andiamo a scuola, il nostro unico obiettivo diventa un voto scritto in un pezzo di carta. Noi ci sediamo a scuola, l'ho provato tramite la mia esperienza, senza pensare che in realtà potremmo dare molto più alla scuola del semplice studio o di un semplice voto scritto su un pezzo di carta. Potremmo dare la nostra opinione, potremmo far sentire la nostra voce, potremmo cambiare realmente le cose. Ma non lo facciamo perché ci basta un risultato. Quando diventiamo più grandi, poi, il risultato a cui vogliamo arrivare, purtroppo, è concreto, è necessario e indispensabile. E questi sono i soldi. Purtroppo, al giorno d'oggi, i soldi vanno oltre ogni cosa, vanno quasi oltre l'amicizia, vanno quasi oltre l'amore, perché oggettivamente, senza soldi, non possiamo fare niente, non possiamo mangiare, non possiamo viaggiare, non possiamo stare con le persone, fondamentalmente. Tutto questo crea un meccanismo inconscio e non ce ne accorgiamo neanche. Questo meccanismo fa sì che quando giriamo per la strada, vediamo l'uomo in giacca e cravatta in modo molto migliore rispetto a come vediamo l'uomo che chiede le lemosine accanto a lui. Perché diciamo, wow, lui è arrivato dove voglio arrivare io. Lui ha compiuto, lui ha impiegato bene il suo tempo. Mentre invece l'altro, purtroppo per lui, poverino, lo ha sprecato. Ma, fondamentalmente, chi è che ci ha detto che l'uomo in giacca e cravatta sia più felice o abbia più da dire a noi rispetto all'uomo seduto di fianco che chiede le lemosine? Un giorno mi sono posto questo dubbio. Ho visto un senzatetto che, nella via per andare verso scuola, leggeva il mio libro preferito. Allora io ho detto, ottima scelta. Ci siamo fermati da quella frase a parlare due ore di qualsiasi cosa. Abbiamo parlato di che cosa fosse la libertà, di che cosa valesse il denaro, di che cosa fosse la società, di quanto siamo strettamente legati a essa senza poterne mai uscire. Io penso che dei discorsi così non avrei potuto farli mai con nessuno. Tutto questo in me ha scatenato un meccanismo molto, molto più profondo. Perché mi ha fatto dire, ma se solo una vicenda del genere ha fatto cambiare in me l'opinione di qualcosa, allora vuol dire che anche tutto quello che vedo, forse, ha un oltre. C'è qualcos'altro. C'è un più profondo. Però ero sempre immerso in questa catena inconsapevole, e non sapevo come uscirne. Allora, a queste domande, la risposta è diventata naturale ed è arrivata attraverso l'unico mezzo che abbiamo tutti in tutto il mondo, in qualsiasi momento, ed è esufruibile da tutti, la musica. Per me le risposte sono arrivate attraverso due grandissimi cantautori italiani, Fabrizio De André e Francesco Guccini. De André mi ha spiegato a posteriori che non ha senso chiamare il businessman businessman e il senza tetto, senza tetto o barbone, perché in realtà siamo tutti uomini. Prima di essere questo, siamo tutti uguali. Tutti nasciamo allo stesso modo, tutti prima o poi moriremo, tutti proviamo gioia, amore, dolore, rabbia, tristezza. E questo non fa sì che siamo tutti uguali. Questo fa sì che quello che provo io, in realtà, lo provino anche le altre persone. Nella sua città vecchia De André parla di prostitute, parla di professori e corrotti, parla di politica, ma alla fine dice se non sono gigli, sono pur sempre figli, vittime di questo mondo. In realtà siamo tutti vittime e viviamo tutti nella stessa barca. Per cui De André mi ha fatto dire wow, negli altri posso vedere qualcos'altro, non c'è solo la loro esteriorità, non c'è solo quello che io vedo, ma c'è un mondo dentro, come c'è in me e noi lo vediamo, il mondo che c'è dentro di noi. Allora c'è anche negli altri. Francesco Guccini, invece, dalla parte opposta mi ha fatto riflettere di più su me stesso. Guccini non parla di chissà quali personaggi emarginati, filosofie strane. Guccini parla semplicemente di se stesso, di quello che lui ha vissuto. Ma sempre in una chiave poetica e romanzata che ti fa capire che ogni nostra esperienza, ogni tua esperienza, in realtà non è altro che frutto di qualcosa di molto più profondo. Da un'esperienza puoi pensare, trarre moltissimi benefici. Quindi, come dicevo prima, non è che tutti i giorni viviamo e basta. Tutti i giorni viviamo e possiamo vivere ancora più all'interno delle cose. Questi due personaggi mi hanno fatto mettere in dubbio qualsiasi cosa. Mi hanno fatto domandare ma io in che direzione sto andando? Come sto guardando il mondo? E perché lo sto guardando in questo modo piuttosto che un altro? Sono veramente io che lo sto guardando o è qualcuno che mi indirizza a farlo? Ora, quello che io vi voglio dire non è che necessariamente voi dobbiate tornare a casa ascoltare Guccini di Andrè e insinuare così nella vostra testa uno spirito critico. ognuno deve trovare il suo modo ma quello che vi voglio dire io è che ci deve essere quel tarlo nella vostra testa che vi faccia dire ma io dove sto andando? Cosa sto facendo? Perché sono qui? Ma io sono qui. Ci dobbiamo accorgere che l'attimo in cui viviamo è la cosa più preziosa ed eterna che abbiamo. Per cui tornate a casa e mettete in dubbio tutto. Mettete in dubbio qualsiasi cosa. Mettete in dubbio voi stessi mettete in dubbio i vostri genitori mettete in dubbio me che vi sto parlando e dite magari non ha detto una cosa giusta anzi riflettete mettete in dubbio il senza tetto mettete in dubbio il businessman perché non è detto che il senza tetto abbia per forza più cose da dire rispetto a un uomo in giacca e cravatta nulla è detto nella vita. Dovete solo sperimentare e provare cosa sia per voi vivere e cosa possa essere. è solo dal dubbio che può nascere la libertà di dire io vado dove voglio andare vado dove mi piace andare sono chi voglio essere. E allora la conclusione che mi viene da dire dopo questa è che nella vita abbiamo un biglietto questo è per forza di sola andata sta a noi decidere se quel treno lo vogliamo guidare noi o far sì che altri lo guidino per noi. Grazie. Applausi